ciao a tutti finalmente è tornato disponibile il nostro prodotto di punta che è stato sold out per oltre sei mesi e sto parlando del nostro completo tempesta costituito dalla giacca e dalla salopetta vi faccio vedere brevemente alcuni punti che sono stati aggiornati poi potrete scoprire tutte le novità andandoli a vedere sul nostro sito o meglio ancora acquistandoli uno tra tutti che basta subito all'occhio è l'aggiunta di questo pratico anellino che fa sostituire le tre asole inda inima qui potete agganciarvi qualsiasi tipo di accessorio una pinza una forbice quant'altro che poi può essere riposta all'interno della giacca le stesse anelline sono stati aggiunti sulla salopetta in questo caso ho la possibilità appunto di andare ad agganciare appunto anche qui la molla che mi lega una pinza e poi la pinza può essere riposta nel portapinze che è presente sia a destra che a sinistra e anche qui abbiamo lo stesso anellino e una cosa che ci sono segnalate da molti e che abbiamo deciso di aggiornare è all'interno sulla patta interna l'aggiunta di questa pratica cerniera che ci consentirà di farla pipì in totale libertà senza dover togliere il completo per quanto riguarda le colorazioni abbiamo il verde maggiore che è sempre piaciuto tantissimo ed è un must have in ambito outdoor che in questo caso però è stato rivisto infatti questa che vedete è l'unica stampa che è rimasta quella che prima vi era sul braccio e in fondo sono sparite quindi questa è sicuramente la versione migliore per chi non vuole mille loghi addosso e in abbinamento trovate la salopetta dello stesso colore verde maggiore poi abbiamo la versione nero di vite che è il nostro nero piaciuto tantissimo e che qui appunto viene riproposto con gli aggiornamenti che vi ho presentato prima che presenta dietro il nostro mega logo rifrangente e si abbina sempre alla stessa salopetta nero di vite e poi abbiamo una novità la vedete qua dietro la faccio vedere anche qui ed è questa colorazione nuova a mio avviso bellissima che sta piacendo tantissimo che è questo arancione mattone con dietro lo stesso box rifrangente questa colorazione come la vedete qui la si abbina sempre al pantalone nero di vite che poi va a comporre gran parte appunto del resto della giacca questa era una rapida panoramica per farvi vedere il prodotto non sto a dirvi che questo è probabilmente il miglior completo in commercio sicuramente l'unico prodotto in Italia ha delle caratteristiche tecniche impressionanti sia dal punto di vista dell'idrorepellenza all'acqua con oltre 20.000 colonne d'acqua l'elasticità che consente ogni movimento nei minimi dettagli comfort e traspirabilità per tutte queste caratteristiche andate a vedere i video precedenti andate a scoprirlo sul sito però vi volevo presentare appunto un po' le novità dirvi che sono tornati e dirvi che per quanto questo non è sicuramente il periodo migliore per acquistare un capo del genere perché sono capi che uno andrà a utilizzare da settembre in poi fate attenzione ad aspettare troppo tempo se siete interessati perché ci vorranno altri mesi e mesi per pensare di riavere una nuova produzione di conseguenza se siete interessati non lasciatevi di scapparvi ti potete trovare disponibili fin da subito sul nostro e-commerce www.bigwan-outdoor.com o nei migliori negozi di pesca